Come già abbiamo detto la scorsa settimana nell'intervista appunto rilasciata a voi ma anche nel comunicato inviato ai giornali abbiamo un po' ripreso la discussione sul biodigestore e sulla sua utilità alla luce anche delle cose che ci sono state riferite da alcune persone residenti nella zona preoccupati per l'ambiente, preoccupati che il biodigestore possa portare più scompenso che vantaggio e noi ribadiamo nuovamente che certamente non spetta Lega Ambiente dire dove si dovrà fare il digestore quindi questa sarà una scelta che faranno gli enti locali unitamente alla società che vorrà costruirlo sulla invece bontà del biodigestore ribadiamo quello che abbiamo già detto perché noi siamo assolutamente convinti che sia un modo giusto per ridurre, anzi per prendere dai nostri rifiuti quello che i rifiuti possono dare lavorandoli in maniera adeguata e cioè biometano come abbiamo già detto e compostabile di qualità in punto alle come dire tecniche quindi di questi impianti noi sappiamo benissimo che ci sono delle leggi ferree da questo punto di vista che per far sì che si abbia un'autorizzazione a costruire un biodigestore ci vogliono delle caratteristiche assolutamente precise e che garantiscono l'assoluto non inquinamento sia dell'ambiente e sia nei confronti delle persone allora per esempio la storia dei fumi, la storia della fuoriuscita o di liquame sono tutte cose che non stanno in piedi perché in realtà noi parliamo a questo punto di impianti che sono pressurizzati, che lavorano quindi a secco che quindi non possono emettere né odori né ovviamente altre cose dannose per l'ambiente o per la salute dell'uomo tuttavia è comprensibile come un ragionamento sul biodigestore vada fatto in maniera tecnica con persone esperte e soprattutto vada informata la cittadinanza laddove si dovesse costruire proprio per rassicurarli ed informarli con progetti alla mano con tecnici esperti affinché vengano chiarite tutte le posizioni che possono sembrare ancora ambigue o non chiare noi di legambiente siamo per costruire un colloquio di questo genere con la cittadinanza laddove si dovesse costruire l'impianto che ancora non sappiamo esattamente dove verrà costruito e siamo anche dell'opinione che si dovrebbero formare un comitato di cittadini che possa seguire non solo la lavorazione, l'impianto eccetera ma anche dopo tutto quello che avverrà quando il biodigestore sarà funzionante perché questo è una cosa giusta, è una cosa logica ed è una cosa che se i cittadini lo chiedono e se lo faranno il comitato sarà una cosa da noi senz'altro appoggiata come legambiente Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!